Buonasera, in apertura oggi una tragedia legata all'immigrazione a Ventimiglia. Un migrante è infatti morto nel tentativo di varcare il confine attraverso la linea ferroviaria, i particolari in un servizio. Aveva 36 anni ed era di origine irachena, l'ennesimo migrante morto ieri a Ventimiglia nel tentativo di varcare il confine. La tragedia è avvenuta lungo la linea ferroviaria nei pressi della galleria che da Peglia conduce alle Calandre. Come altri migranti la vittima voleva arrivare a tutti i costi in Francia ed è stato invece travolto da un treno in transito. La disgrazia è avvenuta nel tardo pomeriggio soltanto in serata, il cadavere ha potuto essere rimosso dopo che la polizia scientifica ha compiuto i rilievi del caso. Erano intervenuti anche un'ambulanza e i medici del 118 ma purtroppo per il 36enne non c'era nulla da fare. L'impatto con il convoglio ferroviario è stato subito fatale. I migranti sanno bene il pericolo che corrono nel tentare di raggiungere la Francia attraverso ferrovia autostrada ma la loro voglia disperata di superare il confine spesso supera la paura e folli tentativi si trasformano spesso in tragedie come quella di ieri sera. La linea ferroviaria è rimasta chiaramente bloccata con diversi ritardi nei collegamenti fra Italia e Francia. Molti trasfrontalieri sono rimasti bloccati in stazione a Mentone e hanno dovuto far ricorso a bus sostitutivi con tanto di presidio della polizia per evitare disordini. E restando in tema immigrazione è di nuovo emergenza profughi a Genova. La prefettura infatti deve trovare collocazione per 100 migranti attualmente ospitati alla Fiera del Mare dove deve essere allestito il salone nautico. Il servizio. La Fiera del Mare di Genova deve prepararsi a tornare a svolgere il suo ruolo istituzionale per ospitare il salone nautico ma per farlo è necessario risolvere il problema della collocazione dei 100 migranti attualmente ospitati in uno dei padiglioni assistiti dalla Croce Rossa. Un problema che riguarda in primis la prefettura che sta cercando una nuova collocazione per gli stranieri entro il 31 di agosto data nella quale è previsto che il padiglione venga liberato per consentire l'avvio degli allestimenti dell'espodera nautica. Un problema non facile da risolvere visto che le strutture genovesi deputate all'accoglienza degli stranieri sono già al completo. Un nuovo centro di accoglienza è stato progettato nell'ex bocciodromo di San Benigno ma a quanto risulti i lavori sono ancora in una fase a dir poco arretrata e la struttura non potrà quindi essere disponibile in tempi brevi. Inoltre contro il progetto si è schierata la Lega Nord che ha già raccolto 4.000 firme di persone contrari al nuovo centro di accoglienza. Inoltre anche molte associazioni che si occupano di assistenza ai migranti sembrano perplesse sui numeri. Enrico Costa del CEIS, il centro di solidarietà di Genova, ad esempio preferirebbe un modello con numeri più ridotti tale da consentire ai profughi di portare avanti una vita autonoma. Intanto però il tempo stringe. La prefettura genovese che da poco ha emesso un bando per la collocazione di 700 nuovi migranti con uno staziamento che spiore i 15 milioni di euro ora deve trovare posto anche per i 100 ospiti della fiera. A Savona i poliziotti della squadra mobile hanno tratto in arresto un 49enne italiano in esecuzione a un provvedimento emesso dalla procura di Imperia. L'uomo deve scontare 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Genova e a Diano Marina. Blitz congiunto nella stazione di Alassio da parte della polizia ferroviaria di Albenga e della polizia municipale nella zona della stazione. Gli agenti hanno constatato la presenza di una quindicina di persone che bivaccavano accampate all'interno dei locali del primo piano dello stabile e dentro il deposito che affaccia sui binari. La polfer ha provveduto a identificare e allontanare i soggetti, alcuni italiani e altri provenienti da paesi dell'est Europa, mentre gli uomini della municipale hanno eseguito le operazioni di bonifica dei siti. Nelle zone limitrofe sono stati trovati oggetti contrafatti pronti a essere immessi sul mercato illegale. Ci spostiamo a Sanremo dove sono in corso indagini su Palazzo Boreadolmo per il sospetto di abusi edilizi. L'inchiesta è a cura della polizia municipale e sono in corso valutazioni con l'ufficio tecnico comunale. Vediamo. È emersa in queste ultime ore la possibilità che alcuni appartamenti nell'antico Palazzo Borea Sanremo siano stati realizzati abusivamente, ciò dopo l'abbattimento di alcune pareti dei muri, violando in questo modo la normativa sull'edilizia, ma anche le imposizioni della soprintendenza. L'edificio in questione è infatti sottoposto a tutela dell'ente. Sembra anche che siano state sottratte volumetria gli spazi comuni. Comunque dal comando della polizia municipale affermano che sono tuttora in corso valutazioni con l'ufficio tecnico comunale dopo il blitz degli uomini della polizia municipale. Sembra anche che ci sia il sospetto di altre azioni irregolari, ma realizzate negli anni passati, non solo nella struttura dominante, ma anche al suo interno, nelle stanze che danno su Via Cavour e Via Matteotti. Nel mirino della polizia giudiziaria il quarto piano. Vige riservo per il momento sull'operazione. Tutta la documentazione dovrà essere attentamente controllata per stabilire se ci siano stati abusi edilizia avvenuti senza che gli uffici comunali ne fossero al corrente. Resta anche da chiarire chi abbia compiuto il sopruso a Palazzo Borea Dolmo, uno dei più prestigiosi palazzi barocchi a danni di altri condomini. Una storia fascinante lega Palazzo Borea Dolmo alla città matuziana. L'atrio monumentale di puro stile genovese presenta colonne balaustre in marmo con una breve scalinata e un armonico gioco di volte. All'interno vi è una minuscola cappella con altare marmoreo con una statua della Vergine Immacolata. Il palazzo ha condiviso per più secoli le vicissitudini della storia locale. Ha ospitato una lunga serie di principi di sovrani e uomini illustri, dalla regina Elisabetta di Spagna al re Carlo Emanuele III a Papa Pio VII e al principe Filippo di Edimburgo. I servizi di controllo straordinario effettuati dalla Polizia di Stato nel periodo di Ferragosto sul territorio imperiese hanno portato all'arresto a Ventimiglia di una cittadina italiana e alla denuncia imperia di un cittadino albanese responsabile del reato di minacce aggravate dall'uso di pistola. Lo straniero aveva minacciato un tunisino accusandolo di avergli rubato la bicicletta, ma il tunisino, innocente, si è rivolto alla polizia. A Ventimiglia invece una giovane italiana ha messo a segno tre furti a danno di altrettanti turisti, ma è stata bloccata dai poliziotti che hanno recuperato e restituito la repurtiva. Il comune di Ventimiglia chiede i danni allo Stato per lo scioglimento illecito del Consiglio Comunale del 2012. A farsi avanti in questo senso è l'ex sindaco Gaetano Scullino. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato definitivamente illegittimo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia avvenuto nel 2012 per presunte infiltrazioni criminali nella gestione della città, ora il comune di Confine deve chiedere i danni allo Stato. È questa l'opinione dell'ex sindaco Gaetano Scullino che quello scioglimento lo aveva subito sulla propria pelle. Secondo Scullino, il sindaco Enrico Ioculano dovrebbe chiedere gli organi competenti il riconoscimento del danno economico e di immagine cagionato alla città e la definitiva presa di coscienza che alcuni uomini dello Stato hanno provocato un'enorme e grave ingiustizia a tutti i ventimigliesi a cominciare dagli ex amministratori. Lo scioglimento fu decretato due mesi dalle elezioni dalla loro ministra dell'interno Anna Maria Cancellieri su segnalazione dell'allora prefetto Fiamma Spena attualmente a capo della prefettura di Genova. Entro settembre dovrebbero essere lanciati i primi bandi per le imprese agricole legati al PSR con il nuovo sistema telematico che sostituisce quello ministeriale. Lo ha annunciato ai nostri microfoni l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. Assessore Mai, dopo i noti problemi con il Sian per quello che riguarda i bandi del PSR avete trovato una via di uscita. Forse la situazione qual è, il punto qual è? Sì, noi ce l'auguriamo. Comunque sia non potevamo più stare fermi sui nostri passi e abbiamo dovuto ammollare l'Agenzia Nazionale, cioè AGEA. Per fare una sintesi molto veloce AGEA è l'agenzia ministeriale che ci garantisce un sistema informatico per presentare le domande e quindi poi dare la possibilità alle aziende agricole di avere le risorse economiche e fare gli investimenti. Questo sistema non c'era, abbiamo fatto diversi incontri sia con il ministro che con gli altri assessori che con AGEA proprio e ci hanno detto che non hanno la possibilità di darci quello di cui necessitiamo. Quindi questi supporti informatici. Abbiamo fatto verifica, una verifica che è durata diversi mesi. Abbiamo trovato un sistema informatico della regione Marche con il quale ci siamo convenzionati e diciamo che entro fine mese cominceranno a partire i corsi. Sarà un sistema molto più innovativo, molto più veloce e semplice e speriamo che possa dare soprattutto risposte ai nostri agricoltori in modo più veloce e puntuale, cosa che fino ad oggi non è stata. Ad esempio noi come Regione Ligure abbiamo circa 4.000 domande in pancia, 4.000 domande che sono già state effettuate dai nostri agricoltori ma siamo veramente riusciti a dare pochissimi soldi. Spero che con le Marche questa cosa possa cambiare, si possa essere molto più vicini al territorio di quanto non siano state fino adesso. Come saranno i tempi secondo lei? Noi pensiamo che entro settembre possano già partire i primi bandi. I bandi più semplici saranno una sorta di test però ci hanno garantito che entro massimo 15 giorni i sistemi operativi ci saranno. Quindi dal momento in cui la Regione Liguria chiederà l'apertura di un bando in 15 giorni non avremo la possibilità di avere il bando con tutti i sistemi applicativi quindi anche e soprattutto la parte che riguarda le istrutture che è quella che ci sta bloccando adesso. Il Consiglio Comunale di Imperia tornerà a riunirsi il 23 agosto a partire dalle 14. Il parlamentino dovrà approvare gli assestamenti di bilancio per evitare il commissariamento. Vediamo. Dal 5 agosto la riunione è slittata oggi e tutto è andato bene. La conferenza dei capi gruppo passato il ferragosto ha deciso il Consiglio Comunale, quello che dovrà prendere in esame gli assestamenti di bilancio dell'esercizio in corso quindi del bilancio di previsione con la salvaguardia degli equilibri finanziari, è stato convocato per il 23 agosto alle 14. Tra i punti in discussione vi è anche quello dedicato alla Seris con le modifiche dello Statuto alla Riviera Trasporti e all'AMAT sempre in relazione alle modifiche statutarie. Prevista anche la discussione di un'interrogazione inerente ai criteri di assegnazione dell'auditorium del Museo Navale. Altra voce oggetto di dibattito sarà quella relativa al regolamento della Goimperia. Dopo alcune difficoltà tecniche e per l'assenza di alcuni consiglieri che erano in ferie quindi, il Consiglio Comunale è stato convocato in tempo utile per evitare il commissariamento per la mancata approvazione delle pratiche relative al bilancio. Ci fermiamo solo un istante, restate con noi. Il premio sale a Perilvino è stato consegnato ieri sera a Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga, che lo ha ritirato dalle mani del presidente di Sagralia, Flavio Maurizio. La festa dedicata al pigato e non solo proseguirà fino a domenica. Sentiamo. Flavio Maurizio è il presidente della cooperativa Macchia Verde che è l'anima, il motore di tutta questa bellissima manifestazione. Sagralia è un vero e proprio evento, presidente, con tanti prodotti tipici, specialità da gustare, il pigato che è un po' il sovrano attorno al quale ruota tutto. Sì, veramente il pigato è il sovrano, come diceva lei, perché noi questa festa è impregnata veramente sul pigato, perché secondo noi è il vino principe della nostra Liguria. Non teme i confronti con nessuno e noi, anzi, è già da anni che vogliamo che abbia il riconoscimento massimo della scala dei valori e delle dimensioni origine. vale a dire non solo la DOC, ma la DOCG, che sarebbe la dimensione d'origine controllata e garantita. Naturalmente questa è la festa non solo del pigato, ma anche la festa degli altri vini Liguri, come abbiamo detto tutte le cantine che abbiamo presenti. è la festa che abbiamo una grossa partecipazione, è la festa di una mostra a mercato, sia commerciale che artigianale. Questo cerchiamo ogni anno di rinnovare, di puntare esclusivamente sulla qualità. C'è un libro che parla anche di 50 anni, di Sagralea, è un compleanno importante, vuol dire tanto impegno, ma vuol dire anche un'unione molto forte fra di voi, perché resistere 50 anni faticando, perché qui si lavora veramente in questi giorni, non è una cosa facile. Non è facile, perché 50 anni è una vita. E le dirò che i 50 anni di questa società ne ha avuto l'alto e il basso periodo e ha avuto anche dei momenti veramente tragici, che si pensava anche di non poter più continuare. Ma io penso che la determinazione nostra sia data da tre punti cardine, che io in tutte le mie interviste li cito, l'indipendenza, la volontarietà e soprattutto l'unità. Io penso che quest'ultimo punto sia stato determinante per superare tutte quelle ingiustizie che anche, possiamo dire, anche non so, rivalità, tante cose che non so perché ci abbiano intracciato in questo momento. Bernardo Donino, che è il presidente della Croce Bianca, ma anche della consulta del volontariato, che cosa significa per lei il premio di Sa? Vede, come ho detto prima, il premio a me vuol dire alla mia associazione, ai centinaia di ragazzi che con me hanno lottato e continuano a lottare, a quei sei ragazzi che con me siamo venuti in quelle fasce, tre fasce vicine alla chiesa, e è partita a Sagra de Salia. Don Borsocchiello, Aldo Caleri, che è stata una persona magnifica, è una persona di cuore. Poi loro sono volontari come noi. Il nostro è più difficile. Il nostro è più difficile perché 24 ore su 24 e siamo sempre pronti e siamo orgogliosi che in 105 anni nessuno è mai venito a soccorrere qualcuno dei nostri prima di noi. Questa è la grande soddisfazione. Grazie. A Sagra, fra gli altri, ieri sera è intervenuto anche il sindaco di Albenga, Giorgio Cangiano, che ha evidenziato l'importanza dell'evento. Signor sindaco, non una Sagra, ma un vero e proprio evento, una manifestazione di grande importanza sagrale. Sicuramente sì, è vero quello che dice lei. È un evento, pensare che sono 50 anni che viene svolto fa capire la forza di questo gruppo, un gruppo di persone che hanno avuto un'intuizione straordinaria quella di puntare su un nostro prodotto, che è il pigato, che 50 anni fa non era così conosciuto, non aveva questa risonanza, invece loro ci hanno creduto e anno per anno questo è diventato veramente ormai un riferimento per quanto riguarda sia il turismo, perché molta gente viene in questa Sagra proprio per mangiare, perché si mangia molto bene, ma anche perché poi si possono visitare gli stand, i prodotti che ci sono e quindi non solo il pigato, ma tantissimi prodotti della nostra terra, perché la nostra terra è una terra dove c'è molta qualità e quindi noi su quello dobbiamo puntare. L'imperiese Franco Magliotti dall'Africa lancia un appello per aiutare le persone sopravvissute all'alluvione che si è abbattuta su Free Town, capitale della Sierra Leone. L'uomo si trova in Africa per un progetto di aiuto ai bambini. Vediamo. Franco Magliotti, imperiese che in Africa sta realizzando il progetto Scuola Officina Matteo 4U, promosso dall'associazione Matteo Magliotti d'Imperia, ha ora lanciato un appello attraverso internet per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. In particolare a Free Town si sono registrati diversi morti e molte persone hanno perso quel poco che avevano. Magliotti ha fatto presente di non essere in grado da solo di far fronte a una così enorme emergenza e ha quindi chiesto che tutti coloro che possono mandino dei fondi a sostegno dei popoli della Sierra Leone, prendendo contatti con la mail associazione matteo-magliotti-gmail.com Sabato sera al Festival di Musica da Camera di Cervo sarà la volta di un quartetto di sassofoni. Sentiamo il direttore artistico Walter Nozzi. 19 agosto sul Sagrato dei Corallini di Cervo, un gruppo che ha del fantastico, del fenomenale. è una formazione veramente molto particolare perché è un quartetto di sassofoni che verrà a suonare appunto per il Festival Internazionale di Musica da Camera. Si chiamano Sigmund Saxon Quartet ed è un gruppo che sta spopolando in tutto il mondo. sono dei giovani con delle sonorità meravigliose proprio perché i quattro strumenti sono quattro strumenti con diverse tonalità che si integrano molto bene nell'ensemble che vi andiamo a proporre. Poi il programma è un programma decisamente molto gradevole perché è un programma che partirà da compositori se vogliamo più del passato come Hayden tanto per capirci fino ad arrivare ai giorni nostri quindi con Ghillesbi, Cicoria, Piazzolla e sarà sicuramente una scoperta proprio perché è un ensemble che è una rarità per certi versi e poi soprattutto sono veramente molto bravi e quindi per noi è un onore. L'anno scorso per esempio sono stati anche invitati nella stagione di Genova del Teatro della Giovine Orchestra Genovese della GOG dove hanno spopolato hanno avuto un successo incredibile riempiendo anche il Teatro del Carlo Felice. Quindi noi ci aspettiamo un risultato sicuramente importante proprio perché siamo sicuri che possa incontrare il piacere di un pubblico visto il programma e vista la gioventù di questi meravigliosi musicisti. Vi aspettiamo a Cervo Cervo è sempre molto piacevole e accogliente quest'anno ed è stato per noi sicuramente un successo la biglietteria è stata posizionata nell'oratorio di Santa Caterina nell'oratorio di Santa Caterina oltre alla bellezza di questa chiesa romanica sconsacrata nel 1200 con degli affreschi accennati di rara bellezza è stata anche valorizzata una mostra permanente di immagini sacre che partono dal 1600 120 pezzi di rara bellezza e con questo direi tra la nostra biglietteria con le immagini sacre e il famoso quartetto dei Sigun vi aspettiamo numerosi e non ve ne pentirete. Grazie e a presto. E adesso spazio a Riviere Venti e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Grazie a tutti. Fino alle 24 del 10 settembre lungo la tratta Savona con fine di Stato sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. E ora non ci resta che dare uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Domani, venerdì 18 agosto cieli in prevalenza sereni su tutta la regione disturbati solo da addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore più calde e da velature serali. Umidità su valori medi venti inizialmente deboli in regime di brezza in rinforzo dal pomeriggio fino a moderati con raffiche forti in serata sui rilievi centrali e capi esposti di ponente mare in prevalenza poco mosso quasi calmo al mattino a ponente segnalazioni protezione civile disagio fisiologico per caldo dopo domani sabato 19 agosto fino al mattino ancora in prevalenza soleggiato il sopraggiungere di una struttura frontale sul nord Italia comporta un aumento delle condizioni di instabilità sulla regione con possibili temporali al più moderati nell'interno dal pomeriggio impossibile successivo sconfinamento costiero umidità su valori medio-alvi venti tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Ligure in serata deciso ingresso di venti settentrionali con locali raffiche forti sui rilievi mare in aumento da poco mosso a mosso nel corso del pomeriggio per l'edizione di oggi abbiamo concluso io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti